Capitolo 5 Esther e il suo ago Esther aveva scontato la prigionia, fu aperto l'uscio del carcere ed ella uscìa alla luce del sole, che cadendo indistintamente su tutto, parve al suo cuore malato ed oppresso intesa all'unico scopo di rivelare la lettera scarlatta sul suo seno. C'era forse uno strazio più reale, nei primi passi che la mosse senza scorta dalla soglia della prigione, di quello provocato dal corteo e dallo spettacolo già descritti, i quali avevano fatto di lei l'infamia comune, che tutto il genere umano era stato convocato a segnare a dito. Allora, l'avevano sorretta una straordinaria tensione dei nervi e tutta l'energia battagliera del carattere, rendendola capace di cangiare la scena in una sorta di livido trionfo. Quello era stato, inoltre, un singolo evento a sé stante, destinato a prodursi un'unica volta in vita sua, e che dunque aveva potuto affrontare, chiamando a raccolta, tutta la forza vitale bastante a molti anni di quiete. La stessa legge che la condannava, figura gigantesca dai tratti implacabili, ma il cui braccio di ferro era possente nel sostenere oltre che nell'annientare, l'aveva soccorsa nel tremendo cimento del suo vituperio. Ma stavolta, con quel tragitto solitario iniziato sul limitare della prigione, cominciava la pratica quotidiana, ed essa doveva assumerla e mandarla avanti mediante le ordinarie risorse della propria natura, ovvero soccombere sotto il suo peso. Più non poteva prendere in prestito dal futuro il sollievo al dolore presente. L'indomani avrebbe portato seco la sua prova. Lo stesso avrebbe fatto il giorno dopo e il successivo. Ciascuno la sua, che pure era identica alla prova di oggi, già così indicibilmente penosa da tollerare. E quelli del lontano avvenire si sarebbero trascinati innanzi, sempre recandole il medesimo fardello da toglier su e da sorreggere, senza poterlo mai gettare a terra. Che, i giorni ammassati negli anni, avrebbero edificato la loro tortura sul cumulo del suo obrobrio. Lungo tutto quel lasso di tempo, rinunciando alla propria individualità, ella si sarebbe trasformata nel simbolo pubblico, additato dal predicatore e dal moralista, al quale essi avrebbero ricorso per dar vita e sostanza alle immagini di fragilità e di passione peccaminosa nella donna. Così, i giovani e i puri avrebbero imparato a guardarla, con la lettera scarlata fiammeggiante sul seno, lei, figlia di genitori onorati, lei, madre di una bimba che un giorno sarebbe divenuta una donna, lei, un tempo innocente, come le fige il corpo, la realtà del peccato. E sulla sua tomba, l'infamia che avrebbe dovuto recare sin lì, sarebbe stata la sua sola memoria. Potrà sembrare sorprendente che col mondo davanti a sé, senza che nessuna clausola restrittiva della sua sentenza la costringesse entro i confini della colonia puritana così remota ed oscura, libera di tornare al paese natio o in un'altra qualsiasi nazione d'Europa, e divi di nascondere la propria condizione e identità sotto nuove spoglie, né più e né meno che se fosse emersa in un'altra forma dell'esistenza. Ed essendole aperti anche gli accessi della buia e inscrutabile foresta, ove la sua indole selvaggia avrebbe potuto assimilarsi a un'agente la cui vita e le cui usanze erano aliene dalla legge che l'aveva condannata. Potrà sembrare sorprendente che questa donna seguitasse a considerare come il suo domicilio, per l'appunto, quell'unico sito nel quale doveva essere per forza l'emblema della vergogna. Ma c'è una fatalità, un sentimento così irresistibile e ineluttabile da avere la forza di una condanna, che quasi invariabilmente obbliga gli esseri umani ad aggirarsi come fantasmi nei pressi del luogo ove un evento grave e indelebile ha dato il colore alla loro esistenza. E ciò faranno tanto più irresistibilmente quanto più fosca è la tinta che l'oscura. Il peccato, l'ignominia, erano le radici che ella aveva affondato nel terreno. Pareva che una nuova nascita con più forti capacità d'assimilazione avesse trasformato quella contrada selvosa, ancora così ingrata ad ogni altro pellegrino e viandante, nell'asilo squallido e selvaggio ma perenne di Esther. Qualunque diversa località della terra, persino quel villaggio della campagna inglese ove la lieta infanzia e la pura adolescenza sembravano tuttora affidate alla custodia di sua madre come vestiti smessi da gran tempo, le appariva estranea al confronto. La catena che la avvinceva a questo suolo era di ferro e le sulcerava fin nei recessi dell'anima, ma non le era consentito di spezzarla giammai. Poteva anche darsi, era senza dubbio così, quantunque nascondesse il segreto a sé medesima e impallidisse ogni qualvolta le si sprigionava dal cuore come una serpe sbuca dalla tana, poteva darsi che un altro sentimento la confinasse entro la cerchia e il sentiero che le erano stati fatali a tal segno. Ivi dimorava, Ivi moveva i passi colui al quale ella si giudicava vinta in un'unione che ripudiata sulla terra avrebbe condotto entrambi davanti al seggio dell'estremo giudizio e fatto di esso il loro altare nuziale per un futuro comune di punizione infinita. Più e più volte il tentatore dell'anime aveva gettato l'immagine di lui nelle sue meditazioni e riso della gioia anelante e disperata con la quale ella l'aveva ghermita e poi si era sforzata di respingerla da sé. Contemplava un momento quell'immagine in volto e si affrettava a rinchiuderla nella sua cella. Quello che si costringeva a credere quello che infine si convince essere il motivo per cui aveva seguitato a risiedere nella nuova Inghilterra era in parte verità, in parte illusione. Ivi, si diceva, si era svolta la scena della sua colpa ed Ivi doveva svolgersi la scena del suo castigo terreno. E così, forse, la tortura dell'onta quotidiana avrebbe finito per purgare l'anima sua creandovi una purezza diversa da quella che aveva perduto. Più sacra, perché frutto di martirio. Esther, dunque, non fuggì. Nei pressi della città, entro i confini della penisola, ma a una certa distanza dall'altre abitazioni, sorgeva una casupola dal tetto di paglia. Uno dei primi pionieri l'aveva costruita e poi abbandonata perché il terreno circostante era troppo sterile, mentre la discreta lontananza l'escludeva dall'ambito di quell'attività sociale che già distingueva i costumi degli emigrati. Si trovava sulla spiaggia e di là da un'insenatura guardava sui colli boscosi a Ponente. Un gruppo d'alberi stenti, quali vegetavano solo sulla penisola, non riusciva tanto a nascondere la bicocca quanto a suggerire la presenza di un oggetto che sarebbe stato contento, o perlomeno avrebbe dovuto esserlo, di sfuggire alla vista. In quella piccola solitaria dimora, con gli scarsi mezzi in suo possesso e il benestare dei giudici che esercitavano tuttora una severa vigilanza su di lei, Esther si stabilì con la figlioletta. Un'ombra arcana di sospetto calò immantinente sul luogo. I fanciulli, in età troppo tenera per capire come mai quella donna fosse stata isolata dall'ambito degli affetti umani, sgattaiolavano abbastanza vicino da scorgerla assidua al cucito presso la finestra, o ritta sulla soglia di casa, o intenta a coltivare il giardinetto, o in atto di incamminarsi per la viottola che menava in città. E a vederle sul seno la lettera scarlata, se la davano a gambe, colti da un panico strano, contagioso. Per derelita che fosse la sua situazione e senza un amico al mondo che osasse avvicinarlesi, Esther non correva alcun rischio di povertà. Possedeva un'arte bastante, anche in un paese che offriva un campo relativamente angusto al suo esercizio, a provvedere il cibo per la florida pargoletta e per sé. Era l'arte, allora come oggi quasi l'unica a cui una donna possa dedicarsi, del ricamo. Ella portava sul petto, nella lettera confezionata così elegantemente, un campione della sua delicata e fantasiosa maestria, alla quale le dame d'una corte sarebbero state ben liete di ricorrere, onde aggiungere ai loro tessuti di seta e oro l'ornamento più ricco e spirituale dell'ingegno umano. Vero è che laggiù, con la funerea semplicità che soleva distinguere l'abbigliamento puritano, poteva essere scarsa la richiesta delle sue confezioni più fini. Tuttavia, il gusto dell'epoca, che esigeva quanto di più complicato esistesse in lavori del genere, non mancò d'estendere la propria influenza sui nostri rigidi progenitori, che pur si erano sbarazzati di tante usanze apparentemente assai più difficili da togliere di mezzo. Cerimonie pubbliche, quali l'ordinazione dei sacerdoti, l'entrata in carica dei magistrati e quanto poteva rendere maestose le forme in cui un nuovo governo si manifestava al popolo, erano contrassegnate, come misura di politica, da un cerimoniale ordinato e solenne e da una magnificenza austera, ma studiata. Gorgere rigonfie, stole laboriosamente guarnite, guanti dai sontuosi ricami, erano tutti stimati necessari alle alte funzioni ufficiali d'uomini che assumevano le redini del potere e prontamente concessi a personaggi ragguardevoli pel ceto o per le ricchezze, pur mentre le leggi suntuarie proibivano al volgo quelle ed altre analoghe stravaganze. Anche nell'assetto dei funerali, sia per l'abbigliamento della salma, sia per rappresentare il dolore dei vivi mediante svariati emblemi di drappo nero e candidolino, grande era la richiesta dei lavori che Esther poteva fornire. Con redini da neonati, che allora i neonati portavano indumenti di gala, costituivano un'altra fonte di fatiche e guadagno. Man mano e neppur troppo ad agio, le sue creazioni divennero, come diremmo oggigiorno, di moda. Vuoi per pietà ad una donna dal destino così miserando? Vuoi per la curiosità morbosa che attribuisce un valore fittizio anche a cose comuni o meschine? Vuoi per qualsivoglia circostanza imponderabile, che allora come oggi è sufficiente a conferire a una data persona quanto altre perseguono in vano? Ovvero perché Esther colmava effettivamente un vuoto che altrimenti sarebbe rimasto tale per forza? Fatto sta che ella non si trovò a corto di lavoro e le ore dedicate al cucito furon tutt'altro che mal rimunerate. La vanità, forse, stabiliva di mortificarsi indossando gli abiti cuciti dalle sue mani peccaminose per cerimonie di gran pompa. I suoi ricami si vedevano sulla gorgera del governatore. Gli ufficiali li portavano sulle sciarpe e il sacerdote sulla stola. Adornavano la cuffietta dell'infante, venivano chiusi a muffire e a disfarsi nelle bare. Ma non resta testimonianza ad un sol caso in cui si fosse ricorso alla sua maestria per ricamare il bianco velo destinato a coprire i puri rossori di una sposa. Tale esclusione è indizio dell'implicato rigore con cui la società guardava biecamente la sua colpa. Esther si accontentava del tenor di vita più frugale ed ascetico ed un modesto benessere per sua figlia. Gli abiti di lei erano fatti delle stoffe più rozze e nelle tinte più scure. Con quell'unica guarnizione, la lettera scarlatta che era condannata a portare. Quelli della bimba d'altro canto si distinguevano per una ingegnosità fantastica o per dir meglio bizzarra la quale contribuì in vero a intensificare l'etereo fascino che cominciò a manifestarsi per tempo nella fanciullina ma che sembrava avere anche un significato più recondito. Di questo riparleremo in seguito. Eccettuata quella tenue spesa per l'ornamento della sua piccina Esther impiegava tutto il superfluo in opere di carità a beneficio di disgraziati in meno dei relitti di lei i quali non di rado insultavano la mano che li nutriva. Gran parte del tempo che avrebbe potuto facilmente riservare ai frutti migliori dell'arte sua la dedicava a far abiti grossolani per i poveri. E' probabile che quel genere d'occupazione fosse ispirato a un'idea di penitenza e che ella sacrificasse realmente una gioia consacrando tante ore a un lavoro manuale così rozzo. Era nella sua indole qualcosa di ricco voluttuoso orientale un gusto per la bellezza sfarzosa il quale tranne che nei prodotti squisiti del lago non trovava nulla su cui esercitarsi negli altri possibili impieghi della sua esistenza. Le donne ricavano un piacere incomprensibile all'altro sesso dalla delicata fatica del lago. Per Esther essa avrebbe forse costituito un modo di esprimere e quindi di placare la passione della sua vita. Al pari di tutte le altre gioie la discacciò come peccaminosa. Questo morboso immischiarsi della coscienza in una questione di poco peso non era indice temiamo di penitenza genuina e risoluta ma di qualcosa di dubbio qualcosa che sotto sotto poteva essere profondamente errato. In tal maniera Esther si trovò ad avere una parte da adempiere nel mondo. A causa della sua innata energia e rara bravura esso non poteva ripudiarla completamente quantunque l'avesse segnata con un marchio più intollerabile per il cuore di una donna di quello che bollò la fronte di Caino. In tutti i suoi rapporti con la società tuttavia nulla le dava l'impressione di appartenervi. Ogni gesto ogni parola e persino il silenzio di coloro con cui veniva in contatto implicavano e sovente dichiaravano che ella era al bando e non meno sola che se avesse abitato un altro pianeta ovvero comunicato con la natura umana mediante organi e sensi diversi da quelli del prossimo. Si teneva in disparte dagli interessi morali eppure accosto ad essi come uno spettro che torna al focolare domestico e non può farvisi oltre vedere o sentire o unirsi alle gioie familiari col sorriso o ai comuni dolori col pianto e quando gli fosse riuscito di manifestare la simpatia proibita avrebbe destato soltanto terrore e raccapriccio quest'ultime emozioni difatti e per giunta lo scorno più amaro parevan l'unica porzione del cuore universale che le fosse serbata non era quella un'epoca di delicatezza e la sua situazione quantunque la capisse bene e corresse pochi rischi di scordarla veniva presentata sovente alla sua vivida consapevolezza come uno strazio nuovo col tocco più rude sul punto più vulnerabile i poveri già dicemmo che ella ricercava per farne oggetto della sua generosità vi li pendevano spesso la mano protesa per sovvenirli le dame d'alto ceto del pari la cui soglia varcava nell'ambito del suo mestiere solevano instillarle nel cuore delle gocce d'amarezza talvolta mediante quell'alchimia di quieta perfidia con cui le donne sanno estrarre sottili veleni dalle bagatelle ordinarie e talvolta pure con espressioni più volgari che cadevano sul petto inerme della meschina come un aspro colpo su una piaga ester ester s'era addestrata lungamente e bene non rispondeva mai a cotesti attacchi se non con una vampa che le saliva irresistibilmente alle gote pallide per poi calare di nuovo nel profondo del seno era paziente una martire anzi ma sasteneva dal pregare pei nemici per tema che a dispetto delle sue aspirazioni al perdono le parole della benedizione non avessero a ritorcersi caparbiamente in anatemi di continuo e in mille altri modi avvertiva le innumerifitte dell'angoscia che era stata così astutamente escogitata per lei dalla sentenza perennemente operante del tribunale puritano i sacerdoti si fermavano per strada a rivolger le frasi d'esortazione che adunavano intorno alla povera peccatrice una calca sugghignante o accigliata se entrava in una chiesa nella speranza di goder del sorriso solenne del padre universale le toccava spesso la mala sorte d'accorgersi che era lei l'argomento della predica finì per avere terrore dei bimbi difatti essi avevano assorbito dai genitori la vaga idea di un non so che di tremendo in quella cupa donna che scivolava in silenzio per la città accompagnata ognora da una fanciullina e quindi dopo averla lasciata passare l'inseguivano a distanza con grida acute e una parola priva per loro d'un significato preciso ma non per questo meno terribile per lei ancorché uscisse da labbra che la balbettavano ignare sembrava denotasse una diffusione così vasta della sua unta che tutto il creato la conosceva non avrebbe potuto cagionarle una più profonda trafitta se le foglie degli alberi si fossero bisbigliate a vicenda la storia tenebrosa se l'avesse mormorata la brezza estiva se l'avesse gridata a gran voce la bufera invernale un'altra particolare tortura era data dall'indagine d'un occhio inconsueto quando gli estranei miravano curiosamente la lettera scarlatta e nessuno sasteneva dal farlo la bollavano nuovamente nell'anima di Esther tanto che spesso ella riusciva astento a trattenersi ma sempre si tratteneva dal nascondere il simbolo con la mano d'altronde anche un occhio familiare aveva parimenti da infliggere la sua sofferenza il freddo sguardo ben noto era insopportabile a farla corta Esther subiva perpetuamente cotesta spaventosa agonia nel sentirsi un occhio umano sul marchio quel punto non diveniva mai inerte sembrava al contrario divenire via via più sensibile alla quotidiana tortura ma talora una volta in tanti giorni o da anche in tanti mesi sentiva un occhio un occhio umano sull'impronta infamante che pareva procurarle un sollievo fugace quasi metà del suo strazio venisse condiviso ma un attimo dopo riaffluiva tutto precipitosamente in lei dandole uno spasimo ancora più acuto da che in quel breve intervallo ella aveva peccato di nuovo Esther aveva forse peccato da sola? la sua immaginazione rimase in certo modo scossa e qualora la sua fibra morale intellettuale fosse stata più debole lo sarebbe rimasta ancor più dallo strano e isolato tormento della sua vita aggirandosi con quei passi solitari nel piccolo mondo a cui era collegata esteriormente ogni tanto Esther aveva l'impressione e quando anche fosse tutta fantasia era troppo potente per esistervi sentiva o si figurava che la lettera scarlatta l'avesse dotata ad un nuovo senso tremava a pensare e tuttavia non poteva a meno di farlo che essa le desse una conoscenza affettiva del peccato nascosto in altri cuori era terrorizzata dalle rivelazioni che in tal modo sorgevano in lei che era mai potevano non essere le insidiose mormorazioni dell'angelo delle tenebre al quale non sarebbe parso vero di convincere quella creatura in lotta sua vittima sol per metà che il sembiante della purezza era solo bugia e che se la verità avesse a mostrarsi dovunque una lettera scarlatta avrebbe fiammeggiato su più di un petto oltre a quello di Esther oppure doveva accogliere coteste insinuazioni così oscure e tuttavia così distinte come veraci in tutta la sua disgraziata esperienza nulla vera d'altrettanto tremendo ed odioso di quella sensazione essa la rendeva perplessa e la scandolezzava nel medesimo tempo con l'irriverente inopportunità delle circostanze che la ponevano vividamente in atto talvolta la rossa infamia sul suo seno aveva un palpito di simpatia quando ella passava accanto a un venerando sacerdote o magistrato modello di giustizia e di pietà che quell'epoca d'antica riverenza riteneva un mortale in dimestichezza con gli angeli quale cosa malvagia è qui intorno diceva Esther tra sé levando gli occhi riluttanti nulla d'umano scopriva nel raggio della sua vista tranne la figura di quel santo in terra e ancora un'arcana parentela insisteva a rivendicare i suoi diritti quando essa incontrava l'edificante cipiglio di una matrona che a detta di tutte le lingue aveva serbato frigide nevi nel petto per tutta la vita le vergini nevi nel petto della matrona e la vergogna avvampante su quello di Esther che cosa aveva mai da spartire oppure ancora una volta il brivido elettrico avvertiva mira Esther ecco una compagna e alzando il capo sorprendeva gli occhi d'una fanciulla che guardavano timidamente e di sfuggita la lettera scarlatta e subito si distoglievano mentre un tenue un freddo rossore saliva alle gote di costei quasi la sua purezza venisse in certo modo macchiata da quello sguardo fugace demonio che avesti per talismano quel simbolo fatale nessun oggetto di riverenza sia tra la gioventù che la vecchiaia lasciasti dunque alla misera peccatrice una simile perdita della fede è sempre una delle conseguenze più tristi del peccato se accetti come prova che tutto non era corrotto nella povera vittima della propria fragilità e della dura legge dell'uomo la lotta che ester sosteneva tuttora per credere che nessun altro mortale fosse colpevole al pari di lei il volgo che in quei lugubri tempi attribuiva invariabilmente un orrore grottesco a quanto lo colpiva nell'immaginazione escogitò una storia sulla lettera scarlatta con cui ci sarebbe facile di comporre una paurosa leggenda asserì cioè che il simbolo non era di semplice panno scarlatto tinto in una caldaia di questo mondo bensì arroventato con fuoco infernale e si poteva vederlo tutto rutilante ogni volta che ester se ne usciva nottetempo dobbiamo dire d'altronde che esso bruciava il petto di ester così profondamente che forse in quella diceria c'era più vero di quanto possa essere propensa ad ammettere l'incredulità di noi altri moderni